Guardiamo le principali modalità di ricerca, che sono la base e l'avanzata, e i filtri. È possibile fare una ricerca generica utilizzando le opzioni del box che compare in alto a sinistra, in tutte le pagine. Cerchiamo ad esempio la parola Universo. Premo Invio. In alto a destra noi vediamo che questa ricerca recupera diversi tipi di documenti, quindi come livello bibliografico escono parti di monografia, articoli, monografie, ecc. Noi possiamo però limitare i risultati agli e-book, selezionando come livello bibliografico monografie. I risultati sono stati aggiornati. In alternativa, cliccando sul bottone Ricerca avanzata, in alto a sinistra, si apre una schermata con più campi di ricerca da combinare. Ad esempio, noi possiamo cercare nel titolo la parola Universo. Quindi, accanto a titolo, scriviamo Universo. E possiamo anche mettere dei filtri. Ad esempio, possiamo scegliere come lingua di pubblicazione l'italiano e come livello bibliografico, anche in questo caso, le monografie, per trovare sempre gli e-book. Per lanciare la ricerca, basta cliccare Ricerca. Eccoci i risultati. Eccoci i risultati.